benvenuto al programma partner di dubli ovunque nel mondo aziende d'organizzazioni proprio come la tua affrontano sfide continue per aumentare le trate dalla propria clientela infiniti ed elevati costi di marketing vengono sostenuti per mantenere e fidelizzare clienti e migliorare il brand il programma partner di dubli risolve entrambe queste sfide con una soluzione semplice accattivante dato che le organizzazioni fanno sempre più affidamento al commercio elettronico per aumentare considerevolmente il loro fatturato la domanda è come fare per distinguersi dai concorrenti e dalle numerose altre opzioni online la soluzione dubli ha sviluppato un programma innovativo e dinamico dove sia il partner che il cliente traggono beneficio dal suo potente motore di ricerca globale sul cashback degli acquisti con la partecipazione al programma partner di dubli ti verrà richiesto un minimo investimento e dopo un paio di giorni dalla registrazione riceverai il sito con il tuo brand identico a quello di dubli.com con il tuo logo sul nostro sito entrerai subito nel business dell'e-commerce pronto ad offrire ai tuoi clienti e relazioni commerciali un incredibile menu di opportunità di shopping online promozioni e benefici speciali per i membri il tuo sito è progettato per catturare l'interesse dei tuoi clienti in un modo tale che le visite e gli acquisti aumentino considerevolmente e andrà a sostituire le loro abitudini d'acquisto online giornaliere perché virtualmente offrirà loro ogni prodotto e servizio che un cliente possa desiderare loro si ricorderanno di te e tu otterrai il miglior tipo di fidelizzazione e mentre i tuoi clienti guadagneranno del cashback dai loro acquisti quotidiani tradizionali anche tu guadagnerai il sito personalizzato con il tuo brand ti aiuta a monetizzare il database della tua clientela senza generare conflitto con il tuo core business puoi anche offrire l'opportunità di partecipare al tuo programma partner all'intera gamma delle tue relazioni commerciali attraverso l'account aziendale di dubli l'account aziendale di dubli è stato progettato positamente per le piccole e medie aziende per prenotare tutti i viaggi aziendali e le altre esigenze d'ufficio utilizzando marchi di fiducia attraverso un sito semplice ed efficiente e guadagnare mentre queste spendono dubli pagherà loro del cashback e tu in cambio riceverai una commissione per averli indirizzati al tuo sito di partner con l'account aziendale gratis il ritorno sull'investimento dei tuoi partner commerciali è del 100 per cento con dubli riceverai una commissione su ogni abbonamento sottoscritto dai clienti su ogni acquisto nel portale shopping e su ogni prenotazione dei viaggi generati dal database dei tuoi clienti il programma partner di dubli è predisposto per accogliere ogni tipo di organizzazione dalle aziende commerciali alle fondazioni no profit tutte le organizzazioni possono integrare questo strumento di e-commerce per incrementare le entrate dai clienti esistenti e al contempo rafforzare i propri brand attraverso l'incremento dell'interesse quotidiano sul sito da parte di ogni consumatore il sito personalizzato con il tuo brand andrà ad arricchire il core business della tua organizzazione un richiamo non solo per la tua preziosa clientela ma anche per i tuoi impiegati investitori e dirigenti questi consumatori potranno ora sfruttare le opportunità del cashback e tutti i benefici che fornisce ai membri speciali senza fare nulla di diverso solo comprando nei loro negozi online e siti di viaggio preferiti dubli oggi accoglie partner commerciali e no profit da molti paesi in tutto il mondo non è un test i tuoi clienti stanno già comprando online e ora stanno aspettando solo te con dubli una parte delle risorse economiche ritornano alle aziende famiglie e persone reali che ne hanno bisogno se lo meritano e guadagnano comprando online